Una prima sgambata utile per trarre indicazioni preziose. Francesco Modesto archivia il primo test con l'Alta Naunia, con un cauto ottimismo per il futuro. No, buone indicazioni perché comunque è stata una partita dove cercavo più la fase offensiva per dei meccanismi che abbiamo provato in questa prima settimana di lavoro. Naturalmente ancora abbiamo tanto tempo fino ad arrivare in Coppa Italia, però il lavoro poi dopo sarà molto più intenso sia nella fase difensiva che nella fase offensiva andando un po' più avanti. Tanti giocatori in questi giorni sono sbarcati al Cesena, tanti altri potrebbero ancora arrivare. Dei giocatori che sono arrivati fino ad ora penso che siano già giocatori voluti sia dal sottoscritto sia dalla società che sono un mix tra giovani e giocatori un po' più di esperienza. La partenza sarà subito col botto, col girone di Coppa che vedrà i bianconeri sfidare il Rimini e la Bispesaro. Penso che subito siano due derby importanti e lì comincia magari già la partita dove sono validi i tre punti quindi poi dopo lì si vedrà già chi magari ha saputo lavorare bene in questi primi giorni perché comunque si giocherà la prima già il 4 di agosto quindi manca poco.